Il teatro dell'Australia, se non il muscolo. Noi non abbiamo muscoli da dimostrare, ma siamo qui i 50.000 per dimostrare che ci siamo, che siamo presenti, che non ci arrendiamo. Siamo qui per manifestare l'ordoglio antifascista, l'unico che ci contraddistingue e di cui c'è tanto bisogno in questo momento, in questo paese. Sono stato assinato da Donate nei giorni scorsi, ma ci sarà ancora motivo di festeggiare il 25 aprile con tutto quello che sta avvenendo, in giro? E io ho risposto, e allora se c'è tutto questo che si dice, la crisi economica, la crisi morale, la crisi della politica, è il momento di essere in piazza, è il momento di esserci. per far valere i valori fondamentali della Costituzione. È il momento di non farsi da parte, e di trasformarsi tutti in vicini custodi dei valori costituzionali, che sono quelli che rappresentano la nostra vita e il nostro campo. Questo è il senso del festeggiamento dei 25 aprile, che non deve mai essere separato dal fatto della memoria, perché prima di tutto noi il 25 aprile ricordiamo i combattenti per la libertà, ricordiamo i caduti per la libertà, ma insieme a loro, alle loro viste sponcate, ricordiamo i loro sogni, le loro speranze, e sentiamo il dovere di realizzare quella speranza e quei sogni sponcati. sentiamo il dovere di impegnarsi, perché quei paesi che sognavano diventano finalmente un paese democratico, antifascista, tecchi, sociale, nell'uoglianza che noi abbiamo desiderato, che desideriamo sempre. Del resto ricordo che il Presidente della Repubblica Cianchi, che lo suo libro ha scritto anni fa, non è il paese che sognavano, ma arriva subito l'ansia di abbruggere questo nostro città, che ci ritiriamo, aspettando che il Presidente della Repubblica Cianchi, il paese che abbiamo sognato. Questo signore invece dobbiamo scendere il campo, un po' di fare per realizzare quel sogno, perché è vero che i tempi sono difficili, è vero che per molti aspetti i tempi sono brutti, e sono pericolosi, lo constatiamo ogni giorno, c'è un'enorme emergenza sociale da cui bisogna uscire al più presto. Ci sono dei pugni di fascisti che impressionano per la loro trascotanza, pensare che pochi mesi fa si sia avuto il coraggio di dedicare un sacralio in un paese del Lazio a un massacratore come Graziani, fai non ridire. Pensate che nella stessa regione in una scuola militare sia stato chiamato a fare una lezione Mario Berlino, un fascistissimo, perché questo si vuole insegnare alle forze armate del nostro paese. E poi li abbiamo visti in azione. guardate che quando un paese brucia si dice normalmente che i topi escono all'aperto e così avviene, avrete visto anche nei giorni scorsi, che ci sono state manifestazioni davanti al parlamento, in sé legittime come anche le manifestazioni che protestano e chiedono, ma faceva specie vedere comparire subito le bandiere dei fascisti, le bandiere di Casa Paolo, che c'entrano, che cosa vogliono. Voglio ricordarci a tempi di roviglie di morte come è stato il fascismo in questo paese smemorato che ha dimenticato che il fascismo prima ancora di andare al potere aveva fatto 3.000 morti e che ha mandato migliaia di persone in galera e al confino, che ha mandato un centinaio di migliaia di giovani a morire in guerre sbagliate in Russia e nell'Africa e abbiamo ancora una delle quelle che dovrebbe essere un'esponente del poco che dice con tranquillità e siccome era che nel fascismo c'era qualcosa di buono, che cosa? è un'epoca di interesse la legge nazionale. Poi ha avuto, ma io mi riferivo al 1919 1919 e allora ha svelato anche la sua ignoranza, perché nel 1919 succedeva ben altro, erano anni in cui si cominciava a dare fuoco alle cabere del lavoro, si cominciava a dare il pastorale a chi era dissidente, allora quelle pagine è meglio dimenticare. E ricordare invece la pagina meravigliosa della Resistenza, questa sì, oggi dobbiamo ricordare, perché tutti sappiano, anche quelli che non la conoscono, anche quelli ai quali viene insegnato che la Resistenza alla fine è stata una guerra quadricina, una guerra civile tra italiani e niente altro che questo. Bisogna ricordare a tutti questi che la Resistenza è stata una pagina splendida che ha visto insieme uomini e donne di varie odiene, di varie professioni, di varie ideologie mettersi insieme con una sola ansia, un solo anelito, la libertà e la democrazia. Questa è la Resistenza che deve essere ricordata.